...di dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nome. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto, quelle cose che occhio non pide, né orecchio pudì, né mani trattano in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo hanno. Ma a noi Dio le ha rivelato per dentro dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce meglio ogni cosa, anche di una fortità di Dio. Parola di Dio. Parola di Dio. Parola di Dio. Alleluia, 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 Alleluia.